Ancora polemica a scuola, la mascherina d'oltranza tra i 6 e i 13 anni mette in crisi i genitori, proteste e divisioni a seguito del DPCM che obbliga ad indossare il presidio dalle 5 alle 8 ore al giorno, anche quando gli studenti sono seduti ciascuno al proprio banco. Intanto dalla Toscana parte una petizione a tal proposito. Io oggi lancio una raccolta firme per chiedere al presidente Gianni che esenti i bambini in regione toscana se non lo può fare alla conferenza Stato-Regioni che chiede al presidente del Consiglio dei Ministri che i bambini, è impensabile che un bambino di 7 anni, di 6 anni, di 8 anni stia 8 ore con una mascherina. Fa male? La prima domanda. Io voglio sapere se ha un bambino o fa male stare in classe con la mascherina. Il presidente di ADUC però non è d'accordo. Non basta fare una petizione per dire che i bambini sono a disagio con una mascherina. Bisogna che vengano contrastati i principi base per cui scientificamente è stato dimostrato che i bambini sono esentati solo fino all'età di 6 anni.